Ciao, mi chiamo Francesco Buzzi e ti parlo da Dubai, dove vivo ormai stabilmente da 45 anni. Infatti, come potete ben vedere, alle mie spalle c'è il Burj Khalifa, la vela, la palma. Se agguzzate gli occhi vedete anche le piramidi, vero? Se non mi conosci, mi presento brevemente. Sono CEO, Founder, CQCQ, Governant della Bustrading International Corporation. Sono qui a Dubai che me la spasso tutto il giorno perché faccio il trader full time, quindi posso fare fattacci miei tutto il giorno e lavorare solo pochi minuti. Grazie della domanda perché posso lavorare solo pochi minuti? Perché una delle mie strategie è la stagionalità, lo spread stagionale, ovvero movimenti di prezzo sulle materie prime come oro, petrolio, soia, zucchero, su base annua, che vanno avanti da decenni e decenni e quindi si possono prevedere in maniera abbastanza puntuale. Beh, l'operatività in spread stagionale è assolutamente meravigliosa per i seguenti motivi. Punto numero uno, è utilizzabile da chiunque abbia semplici pollici opponibili, non serve altro. Punto numero due, produce risultati verificabili e replicabili. Tre, è poco rischiosa perché si opera in spread, quindi con una posizione lunga, comprata, e una corta, venduta, quindi in sostanza facendola breve si rischia pochissimo. Punto numero quattro, i trade sono lunghi, morbidi, vanno dai due ai sei mesi, d'altronde le stagionalità hanno queste durate, quindi anche il trade è molto morbido e non richiede attenzione. Questo ci porta al punto numero cinque, la strategia in spread stagionale richiede circa 117 secondi al giorno di lavoro per inserire gli ordini, niente di più. Breve puntualizzazione perché sono certo che avrai sentito una caterva di castronerie sul trading, sulle materie prime. Non servono indicatori, non servono angoli, ritracciamenti, onde, trendline, qualsiasi tipo di cosa ti abbiano detto, non serve nella maniera più assoluta perché stiamo parlando di materie prime. Quindi domina la legge della domanda e dell'offerta. Punto. Sì, hai capito bene, non uso indicatori, non servono. Sei un operai, un tassista, un fisico nucleare, Stephen Hawking, mia nonna in cariola, non importa, non importa le tue competenze, i tuoi progressi, chiunque può operare nel mio stesso modo. Perché? Perché quest'estate quando sei in spiaggia spaparanzata, vederti il sole, ci penserò io al tuo trading. Con l'unico servizio, segnali, realmente funzionante perché le operazioni le faccio io e quindi, visto che io guadagno, ti assicuro che andrai a operare con una strategia verificata e utilizzata in tutto il mondo da decine di anni con risultati certificati. Vai su www.tradingdallaspiaggia.it e approfitta dell'offerta atomica assurda e dubaina del 50% sul servizio segnali scrocchiarelli. Ti ricordo che è vero che non hai bisogno di competenze, ma serve un po' di fretta perché l'offerta scade il 19 luglio, poi si va al mare e ciaone, ciaone, ciao da Dubai, come vedi. Ciao.